Emergono nuovi particolari in merito all'operazione Tacchi a Spillo, condotta pochi giorni fa dai carabinieri. Una inchiesta che aveva portato agli arresti 5 rumeni, 3 uomini e 2 donne, che sfruttavano e favorivano la prostituzione nel Riminese con una vera e propria tratta di ragazze dalla loro madrepatria che venivano introdotte anche con l'inganno nel nostro paese, ragazze molto spesso anche minorenni. Nel pomeriggio di sabato infatti i carabinieri di Riccione Cattolica hanno arrestato un cinquantenne fotografo il cui studio si trova a Miramare di Rimini con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L'uomo sembra facesse affari d'oro fornendo i propri servizi alle prostitute che con il suo aiuto potevano pubblicare sul web accattivanti immagini per promuovere le loro attività. Ma i carabinieri nella miriade di materiale conservato nei computer hanno rinvenuto anche fotografie di giovani ragazze minorenni, cosa che gli è valso immediatamente l'arresto. Il collegamento con l'operazione Tacchi a Spillo è nato dalle stesse confessioni delle ragazze sfruttate che hanno raccontato di come il fotografo, oltre ad un compenso economico, richiedesse anche prestazioni sessuali dalle stesse prostitute. Ragazze che quindi vivevano in una sorta di organizzazione perfetta, nella banda di rumeni le due donne si occupavano di formarle su comportamenti da avere in strada e su come vestirsi, gli uomini invece del reclutamento delle stesse e del loro successivo controllo sulla strada, mentre il fotografo era l'incaricato della loro promozione per così dire commerciale anche sul web. Per tutti ora è detenzione nel carcere dei casetti.